Occhi che sembravano spenti ormai, occhi stanchi di guardare attraverso un metro. Si aprono ora sulla valle per raccontarmi i suoi volti e ridere, guardare, giocare. Quegli occhi possono essere i tuoi. Se hai voglia di disegnare nuovi punti di fuga, se hai un occhio indiscreto, se hai un punto di vista, basta restare a guardare. È arrivato il momento di mettere in rete i tuoi occhi. Su! Grazie. 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 Grazie.